Il modo anche di rivedere magari con più calma dopo aver sentito le spiegazioni. Il percorso di scienza ultima frontiera e si incontrano in un punto che ha un nome un po' strano, si chiama neuroestetica, che è lo studio di cosa succede nel cervello umano quando noi vediamo, e in particolare quando vediamo un'opera d'arte. E' una cosa che sembra stranissima, invece si può studiare ed ha dei risultati davvero molto interessanti e stasera il nostro ospite ci farà fare uno di questi viaggi proprio in mezzo alle opere, soprattutto del nostro pittore Alessandro Bruschetti. Prima di iniziare io vi faccio fare invece un piccolo viaggio, vi racconto una piccola storia. Stavolta andiamo in Svezia. Andiamo in Svezia negli anni 30 del Novecento e andiamo a conoscere un ragazzo che è l'ultimo di cinque figli. Suo papà di mestiere fa il direttore del manicomio, siamo in periferia di Stoccolma. E lui dice di se stesso di essere stato uno che non aveva nessuna voglia di studiare, preferiva lo sport, però a un certo punto lui dice all'età di 17 anni diventai uno studioso serio. C'era anche la guerra, quindi probabilmente le circostanze lo hanno reso un po' più consapevole. Si laurea in medicina e poi per una sorta di colpo di fortuna riesce ad andare a Baltimora negli Stati Uniti. E lì incontra due persone, o meglio, una è una persona che è un amico carissimo e l'altra è un gatto. Un gatto. Un gatto che, poverino, però da lui subisce una piccola invasione, nel senso che lui cerca di mettergli dei microelettrodi per cercare di capire cosa succede ai singoli neuroni quando noi vediamo, perché era una cosa che, siamo nel 1959, e non aveva ancora studiato nessuno. E per fare queste prove gli fanno passare dei vetrini a questo gatto con dei cerchi neri, più grandi, più piccoli. E intanto registrano l'attività neuronale, si sente la scarica. Gli mettono sto cerchio e non succede niente. Tolgono, succede qualcosa. Rimettono, non succede niente. Tolgono, succede qualcosa. E dicono, cosa sta succedendo qua? No, questi due studiosi, pensate che allora nessuno faceva di questi studi, dicono, ma allora sto neurone reagisce? E alla fine gli viene l'intuizione. Non era il cerchio, era l'ombra del bordo del vetrino. Cioè quel neurone reagiva solo alle righe verticali pendenti verso destra. E da lì, come il professore sa benissimo, inizia una stagione di scoperte meravigliose. Cioè la scoperta di come il nostro cervello entra in relazione con la realtà, con dei neuroni ciascuno specializzato a fare il suo mestiere. Pensate, le righe così, le righe così. Poi si capisce come mai le pitture rupestri avevano incontro. Scopiscono tante cose quando si scoprono queste cose del nostro cervello. Si chiama Weasel, Thursell Weasel, che insieme al suo socio David Hubel vincerà il premio Nobel nel 1981 per la medicina per aver aperto il mondo dello studio neuroscientifico della visione umana. E questo, ve lo dico non per anticipare, perché a me piace raccontare storie, mi sono uno scienziato, quindi le cose toccano a lui. Ma per farvi così, far venire il sospetto che le cose, come è il titolo della nostra rassegna, non è come sembra. Il cervello non è una telecamera che assorbe la realtà. Il cervello aiuta a crearla la realtà. Partecipattivamente. Fa delle cose. Pensate ai colori. I colori esistono nella realtà o esistono nel nostro cervello o c'è un concorso di azione? Interessante questa domanda. Il marrone esiste? Non c'è. Nella scala dell'arcobaleno. Il grigio esiste? Non c'è. Eppure noi lo vediamo. Com'è possibile? È colpa dei nostri neuroni. E vi racconto, dopo quella del gatto, e poi chiudo subito la parola, il viaggio nell'arte, nella scienza vera e propria, la storia della mela. Allora, voi la mela come ve la immaginate? Di che colore? Diciamo rossa, ok? Mela rossa, poi ci sono anche le altre. Ma la mela rossa è sempre rossa? Uno dice, ma se la vedo in piena luce è rossa, se la vedo verso fine pomeriggio è un po' diversa, se la vedo quando il sole sta tramontando. Eppure noi la vediamo sempre rossa, così come vediamo con lo schermo bianco, anche se bianco non è. E' una cosa particolare che fa il nostro cervello, perché? Perché probabilmente fin dai nostri antenati, nella scala evolutiva, poter riconoscere un frutto maturo in qualsiasi condizione di luce è una cosa vantaggiosa. Allora il nostro cervello mantiene quella cosa che mi sembra si chiama costanza cromatica, una cosa simile, in cui noi manteniamo l'idea dello stesso colore anche se il colore cambia. Pensate, il nostro cervello cosa fa? Adesso voi stasera dite, ma io sono qua e sto vedendo una conferenza o sono a casa e mi sto immaginando? No, no, non siamo a Matrix. Però è bella questa cosa che capire come funziona il nostro cervello ci apre lo sguardo. Io, questo personaggio mi piace molto, Wiesel, che è ancora vivente, molto anziano, ed è ancora attivo nelle battaglie, soprattutto per la pace e il disarmo. Si vede che proprio vedere le cose in un altro modo gli ha aperto non solo gli occhi, non solo la testa, ma anche il cuore per le giuste battaglie che fa all'età di oltre 90 anni, insomma. E quindi io penso che l'avventura della neuroestetica non è solo una questione così di sfizio, ma è capire come funzioniamo noi e come entriamo in relazione con la realtà. Che cosa c'è al di là dei nostri occhi e che cosa succede tre centimetri dietro i nostri occhi. E' un viaggio affascinante e per fortuna abbiamo un condottiero che di queste cose ha fatto le ricerche un po' di tutta la sua vita. Ecco, è qui con noi, si chiama Vittorio Sironi e ti do subito la parola. Grazie. Grazie. Grazie per quanto è stato detto e per l'invito soprattutto. Come giustamente si diceva, io non sono un critico d'arte, sono un neuroscienziato. E quindi, come dire, cerco di capire come le opere artistiche vengono viste da chi le guarda. E questo è possibile. Prima è stato anticipato il fatto che a partire dagli anni 60 si è incominciato ad andare a studiare come funzionano i neuroni, cioè i mattoni del nostro cervello. E proprio partendo da questa realtà, qualche altro neurofisiologo, in modo particolare uno di cui parleremo, Semi Ozeki, ha creato questa nuova disciplina che si chiama neuroestetica. E ovviamente prima di arrivare alle opere di Bruschetti, occorre fare qualche premessa per capire poi quali sono le considerazioni, appunto, che osservando le opere di Bruschetti possiamo comprendere, sia noi che le guardiamo, sia per cercare di capire perché Bruschetti ha fatto queste cose in un certo modo. Questi sono i punti che tratteremo stasera. Prima vi parlerò un po' della neuroestetica, che è un approccio neuroscientifico, appunto, all'arte. Poi un breve accenno al futurismo, perché è ovvio che dobbiamo anche collocarci nel contesto culturale e storico in cui queste opere nascono per poterle analizzare. E poi parleremo di due dimensioni, la velocità e la luce. E prima di entrare proprio nel discorso relativo alla velocità e la luce in Bruschetti, vi farò vedere, cercherò di farvi capire, come dal punto di vista neurologico la velocità può essere un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio, perché esistono delle patologie legate all'eccesso di velocità e delle patologie legate invece alla mancanza di velocità. E poi come la luce non è solo un problema fisico e ottico, ma è anche spesso un'esperienza spirituale, fino ad arrivare a concludere, appunto, analizzando le opere di Bruschetti, come in realtà lui abbia fatto un percorso che sì, ha coinvolto queste dimensioni di cui parlerò, ma che poi sostanzialmente ha sublimato la capacità di essere creativo. Cos'è la sublimazione? La sublimazione è il trasformare qualcosa che può essere di per sé negativo in qualcosa che invece è positivo. La sublimazione che lui ha fatto della velocità e della luce è stato l'elemento della sua creatività, creatività che vedete nelle opere che sono esposte in questa mostra. Semir Zeki è un neurofisiologo che ha scritto, ha fatto diverse ricerche appunto come quelle di cui si parlava prima, ma che ha scritto nel 1999 questo libro, La visione dall'interno, in cui ha incominciato appunto a far capire come è possibile osservare cosa succede nel cervello di chi guarda delle opere d'arte, fondando appunto questa nuova disciplina che è la neuroestetica. Allora lui ha analizzato alcune opere, e adesso alcune appunto le vediamo anche insieme, facendo vedere come l'idefinito di Michelangelo, l'ambiguità di Vermeer, hanno un loro significato e sollecitano determinate aree cerebrali. Poi perché per esempio le opere in cui Magritte, come vedremo, fa vedere nelle immagini e scrive sotto che sono cose diverse, in qualche modo creano una contraddizione al nostro cervello, ma suscitano comunque un'emozione. E poi nei quadri astratti, o comunque non figurativi, perché c'è un'attrattiva da parte di chi li osserva? Perché noi riconosciamo i volti delle persone e sappiamo per esempio che quello lì è il volto di mia madre, quello lì è il volto del mio amico, l'altro è il volto del mio figlio? E perché spesso ci sono delle condizioni patologiche in cui non si riesce più a riconoscere il volto di una persona che prima conoscevamo benissimo o che è un nostro parente? Monet, che fa delle opere che adesso vedremo in modo particolare, aveva un cervello diverso dagli altri? E l'arte astratta, perché in qualche modo ci affascina anche se non è figurativa? Sono tutti problemi che appunto sei che si è posto e allora vedete, nelle sculture non finite di Michelangelo, qui ne faccio vedere due, e in quelle invece figurative ma che, come dire, ci fanno vedere quasi come un racconto, come se fossero il fotogramma di un film. in questa sta leggendo una lettera e noi in qualche modo cerchiamo di capire perché ha questo volto, cosa si è scritto in quella lettera lì. È una delusione perché qualcuno, come dire, gli ha scritto che non le vuole più bene oppure è il messaggio di una persona lontana o anche in questo caso queste sono opere appunto di Vermeer in cui fondamentalmente, vedete, il pittore realizza un'opera ma ci parla attraverso un messaggio in qualche modo reale, perché si tratta proprio di lettere, che però, come dire, convogliano tutta una serie di possibili suggestioni e di possibili letture. Magritte, un altro pittore a noi più vicino, vedete, fa delle cose strane perché disegna una pipa e poi sottoscrive che questa non è una pipa. Per cui noi, come dire, entriamo in contraposizione perché il cervello vede una cosa reale e poi però legge che non è in realtà questa cosa qua. Oppure addirittura realizzare le opere in cui i volti non sono presenti e possiamo in qualche modo immaginare e poi veniamo a un'arte, come dire, diversa, non realistica. In questi casi sono delle forme peculiari come in questo caso qua, ma anche queste in qualche modo ci suggestionano. Perché? Oppure guardate Mondrian che fa queste opere con queste quadrature tutte colorate, anche queste in qualche modo suscitano una certa emozione in noi che le osserviamo. Perché? Zecchi è andato appunto a vedere come ci diceva prima non nel gatto ma nell'uomo che cosa succede quando noi osserviamo queste opere e vedete che quelle figure che ci sono sotto sono i neuroni, cioè sono i mattoni che costituiscono il nostro cervello, le cellule che costituiscono il nostro cervello e vedete che quando noi osserviamo delle linee, osserviamo delle aree colorate, dei quadrati, delle forme geometriche, alcuni di questi neuroni si attivano, cioè entrano in funzione. Questo vuol dire è che noi abbiamo dei neuroni specializzati per osservare, per cogliere quella situazione particolare di linee, di quadrature, poi come vedremo di colori. Ed è proprio per questa ragione che noi anche di fronte a un'opera non figurativa come quelle che abbiamo visto prima riusciamo come dire a essere suggestionati perché questi neuroni si attivano e quindi il nostro cervello legge queste cose e poi vedremo se le considera belle o non belle. Addirittura noi abbiamo dei neuroni che si attivano qui c'è una possibilità di usare che si attivano vedete solo se c'è una barra che si sposta da sinistra a destra ma non si attivano vedete che qui ci sono meno segni se la barra si sposta da destra a sinistra quindi anche nel movimento ci sono neuroni che si attivano e poi anche per i colori guardate ci sono dei neuroni che si attivano quando voi osservate il rosso lo vedete qui questo vuol dire che il neurone scarica quindi vuol dire che funziona ma quando osserva il verde il blu il bianco vedete che sostanzialmente quel neurone non funziona questo vuol dire che nelle nostre aree visive ci sono come dire gli neuroni specializzati che entrano in rete tra di loro e che sono connessi poi ad altre parti del nostro cervello quelle profonde per esempio l'amigdala oppure altre parti del lobo temporale profonde che invece sono collegate alle nostre esperienze emotive o alle aree anteriori quelle frontali che invece sono collegate alle nostre esperienze cognitive quindi c'è un approccio intuitivo immediato che poi però è modulato dalle emozioni i ricordi magari alcune cose infanzia come quelle figure che vi ho detto dall'idea che boh quella lettera lì chissà cosa dice quindi noi ci immaginiamo tutta una storia oppure dal fatto che cognitivamente noi abbiamo imparato come l'arte si evolve e ha nei momenti successivi qui vedete oggi si può usare un sistema molto semplice ma molto efficace che si chiama risonanza magnetica funzionale in cui voi potete osservare in vivo senza creare danni al paziente che cosa succede nel cervello del paziente quando come in questi casi osserva delle immagini di questo genere e queste sono le aree che si attivano che vuol dire che in qualche modo sono aree che sono messe in relazione con quelle immagini lì qui le vedete nell'area occipitale che è quella della nostra visione c'è un'area che viene chiamata F4 un'area F5 un'area F1 F2 che vedete sono quelle che la risonanza ha messo in evidenza che si attivano di fronte a determinate immagini queste immagini per esempio di quadrati rettangoli colorati o questo tipo di immagine che magari rappresenta una specie di movimento quindi Zecchi ha aperto proprio una prospettiva nuova che ci fa capire come di fronte a un'opera d'arte il nostro cervello reagisca perché ci sono delle strutture che sono in grado di reagire in maniera specifica cosa succede quando osserviamo il volto di una persona questo è un volto realistico e lo capiamo benissimo ma se guardiamo anche quest'opera di Picasso anche qui noi riusciamo a riconoscere un volto perché perché ci sono degli elementi peculiari gli occhi il naso la bocca bene Zecchi ha dimostrato come nel nostro cervello ci sono dei neuroni che si attivano solo quando noi vediamo un volto allora vedete in questo caso volto vedete che il neurone si attiva se il volto non è umano ma comunque ha le caratteristiche di un volto due occhi il naso e la bocca si attiva ugualmente se manca una parte come in questo caso gli occhi si attiva un po' meno paradossalmente anche di fronte a un disegno un po' si attiva perché contiene comunque gli elementi che in qualche modo configurano un volto voi pensate che questi neuroni sono entrati in crisi quando noi abbiamo incominciato a usare le mascherine perché riconoscevano solo una parte quindi non riconoscevano più il volto mentre di fronte ad altre forme una mano un disegno neutro una cosa in forma vedete che questi neuroni non si attivano quindi noi abbiamo oltre a quei neuroni che vi ho fatto vedere prima anche dei neuroni tipici per riconoscere il volto bene vi sono condizioni patologiche in cui questi neuroni sono alterati per dei danni anatomici vascolari o di altra natura in cui il soggetto non riesce più a riconoscere il volto o perlomeno qualche volta riconosce che è un volto ma non so più attribuire a questo volto il nome della persona a cui questo volto appartiene anche se è una persona che è sempre conosciuto perché magari è la mamma perché magari è il figlio perché magari è un parente e quindi anche qui ci fa capire proprio come paradossalmente la patologia possa spiegarci perché noi di fronte a un'opera in cui riconosciamo il volto quindi non solo un volto reale ma anche un volto ricostruito su una pittura siamo in grado di come dire avere una sollecitazione specifica di un volto che non conosciamo ma che riconosciamo come volto o di un volto che conosciamo in maniera specifica per esempio anche di fronte alle fotografie noi riconosciamo benissimo quella persona non solo abbiamo degli altri neuroni che si attivano vedete quando osserviamo una linea curva quindi se la linea curva è fatta in un certo modo questo suscita l'attivazione di questi neuroni e questo ci crea un'emozione non solo perché c'è una donna nuda ma anche se fosse un altro soggetto la curvatura è un'altra modalità che viene riconosciuta dal nostro cervello allora sulla scorta di tutte queste scoperte è che ha cercato di metterle insieme e di analizzare le opere complete a parte vi ho fatto vedere prima quello che diceva a proposito di Michelangelo a proposito di Magritte a proposito di Vermeer ma un'opera particolarmente interessante è quella che realizza Monet raffigurando questa cattedrale che lui vedeva dalla sua finestra la cattedrale di Rouen in vari momenti della giornata e fa tutta una serie di sono credo 12 credo comunque una serie e vedete che il soggetto è sempre lo stesso ma è raffigurato in maniera differente allora che cosa ci dice la neuroestetica perché Monet è in grado di raffigurare lo stesso soggetto sia pure con dei giochi di luce diversi in momenti diversi della giornata ma in maniera così differente perché in realtà Monet dipinge non con gli occhi paradossalmente ma col cervello per cui la sua ispirazione pittorica è un'imitazione inconsapevole per cui lui ovviamente non lo sa di quello che è il suo cervello visivo per cui in questa serie della cattedrale di Rouen i colori sono scomposti in maniera spettrale come se noi avessimo un prisma e la luce riflessa in ciascun punto del campo visivo viene osservata e riprodotta con una concentrazione volontaria che poi ci dà ovviamente la scena complessiva quindi questo processo è un processo che parte da come dire una visione reale ma una capacità che il cervello ha di Monet di scomporre ogni singolo punto di colore e di luce e poi di raffigurarlo sulla tela questo ci fa capire come anche l'opera creativa non solo di coloro che invece osservano come abbiamo visto prima ha una sua logica come dire che si può spiegare in termini neurofisiologici voi sapete voi sapete che di fronte a un'opera dite è bello non è bello esprimete cioè un giudizio estetico ma questo giudizio estetico secondo alcuni è legato soprattutto come dire alla cultura che una persona ha nei confronti dell'arte Pezzechi ci dimostra un'altra cosa ci dimostra che il giudizio estetico non è soggettivo ma è oggettivo tant'è che se voi esprimete un giudizio estetico positivo cioè quest'opera qui mi piace è bella si attivano le aree cipitali e le aree orbitofrontali nella parte mediale cioè in quella che è al centro del cervello tra i due emisferi se noi esprimiamo un giudizio negativo nei confronti di un'opera si attivano ovviamente le aree cipitali ma l'area motoria sinistra cos'è l'area motoria sinistra? è una parte del cervello che è quella che comanda i nostri movimenti come se noi volessimo quasi allontanare quell'opera che non ci piace se invece un'opera ci lascia indifferente oltre alle aree cipitali si attiva questa che è definita area parietale e del cingolo che è un'altra struttura particolare non solo Zecchi fa un passo successivo nel giudizio estetico noi esprimiamo il concetto di bello e il concetto di sublime bello è una cosa bella ma che ha una sua completezza formale e una sua armonia tra le parti per esempio quest'opera che spero tutti conosciate è bella perché vedete che ha una sua armonia e allora quest'opera bella attiva delle aree neocorticali cioè del cervello più recente orbito frontale e delle strutture profonde la amigdala e l'insula che sono invece quelle più emozionali quando invece definiamo qualcosa come sublime lo definiamo quando paradossalmente c'è qualcosa ma manca qualche altra cosa come può essere un tempio greco allora c'è una parte come dire incompleta che però in qualche modo coinvolge sconvolge addirittura affascina l'animo e lui dimostra come di fronte a un'opera considerata sublime come quella che vi ho fatto vedere vengono attivate le aree profonde i gangli della base e l'ippocampo perché mentre nel bello e soprattutto la componente emotiva che emerge nel sublime occorre anche una componente conoscitiva cioè occorre immaginare fondamentalmente il tempio come se fosse completo questo sconvolge come dire i critici dell'arte perché pone delle basi nuove per un giudizio estetico che come dicevo non è più qualcosa soggettivo per cui a me quella lì piace a quell'altra non piace ma è qualcosa di oggettivo e quindi l'interpretazione dell'arte non passa più solo attraverso l'analisi semantica cioè dei segni delle figure di ciò che l'artista ha realizzato ma si attua attraverso lo studio dei meccanismi cerebrali messi in azione dall'arte cioè da chi osserva e in qualche modo da chi crea quindi la neuroestetica apre veramente prospettive nuove in questo ambito e questo è il primo punto per arrivare al nostro Bruschetti dobbiamo anche qui fare come dire riferimento ovviamente all'esperienza culturale che lui ha vissuto il futurismo una corrente di pensiero che nasce agli inizi del novecento in contrapposizione a come dire una visione vecchia della realtà voi conoscete sicuramente il manifesto del futurismo pubblicato dalle Figaro nel 1909 scritto da Marinetti in cui vengono fatte alcune affermazioni si contesta tutto il mondo e tutta l'arte precedente perché si deve vedere una società un mondo e un'arte completamente nuova cosa scrive Marinetti noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova la bellezza della velocità siamo in un periodo in cui ci sono le prime macchine compaiono i primi aerei ci sono le locomotive allora questa dimensione della velocità è il criterio interpretativo nuovo che il futurismo mette tra quelli che a lui interessa rispetto a un mondo che invece va più lentamente che è quello precedente e scrive ancora e afferma Marinetti l'automobile da corsa è più bella dell'antica scultura della vittoria di Samotraccia che invece era un'opera come dire famosissima ed è cantata da tutti allora velocità volontà ordine disciplina metodo sono i criteri che il futurismo utilizza per determinare la nuova realtà sociale ma anche la nuova realtà artistica in ambito pittorico ma anche in ambito letterario tant'è che paradossalmente la guerra è vista come igiene del mondo cioè come una modalità che purifica il mondo e la società e qualche anno dopo anzi l'anno dopo Boccioni Carrà Russolo Balla e Severini firmano il manifesto dei pittori futuristi cioè di coloro che si ispirano proprio a questo tipo di concezione nel creare le loro opere scrivono nel manifesto tutto si muove tutto corre tutto volge rapido una figura non è mai stabile davanti a noi ma appare e scompare incessantemente questa cosa che arrivano e vanno catturare il cinetismo e la velocità del mezzo con artefatti pittorici statici diventa la loro ossessione cioè come raffigurare in un'opera statica come può essere quella di un quadro questa velocità questo movimento e vedremo come loro lo fanno e vedremo come la velocità paradossalmente diventa un elemento che loro vivono non in maniera patologica anche se in maniera ossessiva ma in maniera creativa per esempio qui vedete alla fine dell'ottocento quando prima fosse inventato il cinematografo come facevano a capire il movimento su una lastra fotografica che veniva lasciata in posizione venivano riprodotte immagini una dietro l'altra in questo caso vedete il cammino di una donna si chiama fondamentalmente questo sistema inventato da mari ma anche da altri sostanzialmente fotocronografia bene allora che cosa succede succede che per esempio balla utilizza la stessa tecnica per raffigurare questa bambina che si muove su un balcone vedete che anche qui ci sono come dire questa serie di figure progressive questo è un modo un artificio che il futurista in questo caso il nostro artista balla utilizza per descrivere in una composizione che apparentemente è statica un movimento quindi dicono sempre i futuristi alla base del bello vi è la velocità pura e senza della sintesi di tutte le forze in movimento con la loro dinamicità nello stesso periodo c'è un altro come dire movimento pittorico e culturale che è il cubismo a cui poi aderiranno almeno alla fase iniziale Picasso e altri beh mentre il cubismo elabora il concetto di tempo lento quindi meditazione lentezza eccetera il futurismo esattamente il contrario propone il culto del tempo veloce in un dinamismo che si rivela nella deformazione dell'immagine perché eleva la velocità è il parametro estetico della modernità quindi questo rinnovamento siamo in un periodo in cui anche la tecnologia paradossalmente favorisce la velocità perché ci sono le prime automobili i primi aerei le moto e poi appunto quest'idea del cronofotogramma che vi ho detto prima in cui si riesce a osservare con dei movimenti ripetuti pure su un'immagine ferma questo elemento di velocità in questo ambito un aspetto particolare è quello che si chiama dell'aeropittura cioè in cui il movimento aereo suggerisce suggestioni adesso vediamo qualche esempio e Prampolini scrive io vedo nell'aeropittura il totale superamento dei confini della realtà terrestre non solo perché si vuole in alto mentre si sprigione noi piloti inestinguibili di una realtà plastica il desiderio latente di vivere le forze occulte dell'idealismo cosmico cioè lo staccarsi dalla terra il volare veloce è una modalità non solo culturale non solo tecnica ma anche in qualche modo filosofica e ideale superiamo il nostro limite di essere attaccati alla terra e anche in Bruschetti questo discorso si sviloperà in quello che lui chiama la purilumetria cioè la luce che diventa elemento di purezza che fa superare la semplice realtà terrena poi ne vedremo alcuni esempi in questo dipinto anzi questo disegno realtà che non appartiene a come dire al nostro al nostro Bruschetti ma appartiene a Crali vedete che c'è questa dimensione di un aereo con tutta la sua dinamicità del movimento mentre questo che è un'opera di Bruschetti si fa vedere anche qua il doppio discorso della luce ma anche il discorso come dire dell'aereo che attraversa in una dimensione non terrena ma celeste paradossalmente questa situazione allora cerchiamo di capire prima di entrare proprio ancora nel discorso di Bruschetti due cose una che riguarda la velocità e l'altra che riguarda la luce la velocità spesso come dire sul lavoro per esempio è vista come un pregio ma in alcune situazioni sociali paradossalmente può diventare un difetto noi nel nostro cervello abbiamo delle aree particolari che sono legate al movimento queste aree possono funzionare normalmente funzionare poco pensate al morbo di Parkinson o funzionare troppo in eccesso ecco questo funzionamento in eccesso si chiama ipercinesia cioè io mi muovo velocemente ho anche spesso una velocità di pensiero non solo di azione ma motoria e questa velocità psichica si chiama accelerazione allora se questa situazione non è più vista come un'abilità individuale ma una condizione che ci rallenta nel senso che ci altera allora lo vediamo anche come una disabilità collettiva in realtà in questa esaltata velocità ci sono delle condizioni patologiche che qui vi elenco rapidamente le ipercinesie i tic la sinonituret che è una malattia particolare in cui si manifestano tic sia motori che vocali le manie e le ossessioni che invece sono come dire le accelerazioni del pensiero in ambito psichico e su questo si può effettivamente cercare di intervenire anche in ambito medico ma spesso più che abolire queste situazioni è importante regolarle quindi se da un lato si interviene quando c'è una velocità lenta borbo di park che sono molto l'osoterapia dall'altro si interviene anche quando c'è una velocità in eccesso con tutta una serie di situazioni che spesso non aboliscono ma riportano alla normalità questa situazione qui anche qui vi ho elencato alcune forme patologiche la corea il ballismo la distonia il tremore il mio clono eccetera e vedete per esempio in questa opera sempre di balla come anche qui la velocità viene raffigurata attraverso una serie di immagini successive che ci danno proprio idea del dinamismo questa è una velocità eccessiva ma è una velocità eccessiva patologica o creativa risponderemo poi va bene sulla sulla sindrome di Tourette possiamo in qualche modo correre così come sulle ossessioni che invece rappresentano l'accelerazione del pensiero per quanto riguarda la luce la luce spesso diventa un'esperienza spirituale e allora è un'esperienza fisica se vuoi la scomponiamo attraverso un prisma ma diventa anche una percezione spirituale se non la osserviamo come una luce che ci illumina e su questo discorso adesso entriamo nel merito appunto sia per la velocità che per la luce in bruschetti e vediamo che cosa fa questo per esempio è un'altra raffigurazione di balla che vi fa vedere come la luce viene anche qui scomposta come se fosse vista attraverso un prisma perché anche la luce ha un'azione veloce che deve essere come dire fermata intuita rappresentata nel quadro da parte del futurista allora il nostro bruschetti per quanto riguarda la velocità che cosa ci dice che cosa ci fa vedere beh guardate questa opera che tra l'altro ho trovato anche in mostra vedete questi cavalli che come dire si muovono velocemente al galoppo l'eccesso di velocità qui viene come dire interpretato attraverso una funzione peculiare che è quello di un'andatura particolare del cavallo e guardate invece quando rappresenta questa scena di un duello nel duello anche qui le lame si muovono velocemente perché bisogna essere più veloci dell'avversario per poter vincere e guardate anche qui quale dinamicità e quale come dire idea della velocità che riesce a immettere su un'immagine che è statica ma che ci richiama invece la dinamicità oppure attraverso questa immagine della moto altro elemento così come l'automobile e l'aereo molto raffigurato dai dai nostri o quest'altra composizione che ci fa vedere come come dire si smaterializza si rompe nello spazio un oggetto o ancora attraverso questa visione in cui come dire gli aerei che volutano che volteggiano nell'area permettono di osservare quello che ci sta sotto e vedete come la dinamicità del movimento viene qui rappresentata o ancora in quest'altra immagine quindi vedete come la velocità in Bruschetti come dire come in altri futuristi riesce a essere non solo valorizzata ma rappresentata attraverso delle immagini che pur essendo statiche ci danno però una percezione di dinamicità il nostro cervello percepisce effettivamente un movimento le nostre aree cerebrali del movimento entrano in sintonia e qui dovremmo aprire un discorso che io accenno solo che è quello dei neuroni specchio noi abbiamo dei neuroni che in qualche modo entrano in collegamento come quando di fronte allo specchio vediamo la nostra figura e quindi paradossalmente ci fanno immaginare e ci fanno fare sia pure virtualmente l'azione che vediamo bene la velocità dei futuristi pur essendo un'immagine statica attiva questi neuroni specchio per cui noi ci immedesimiamo in questa scena come se fossimo sull'aereo che volteggia o come se fossimo sull'automobile che corre o come se fossimo di fronte ai cavalli che vanno al galoppo qui vi faccio vedere altre immagini e in queste scomposizioni ecco che c'è il discorso legato sia alla velocità ma che apre anche una prospettiva che è quella della luce e la luce è un altro tipo di percezione di bruschetti una percezione fisica e spirituale insieme e anche qui vi faccio vedere alcune opere che poi trovate in mostra in cui vedete addirittura questo è l'occhio che in qualche modo incomincia a percepire i colori della luce e poi invece dei colori che vengono scomposti attraverso la visione per esempio in questo caso di una luce gialla o in questo caso di una luce che addirittura ci dà una dimensione quasi spirituale oppure attraverso queste cascate che ci danno l'idea sia di nemicità ma sia anche di una luce che è quella proiettata sull'acqua che scende in cascata o ancora attraverso queste immagini estremamente creative allora e concludo e spero di non avervi annoiato troppo che cosa possiamo dire della velocità e della luce in Bruschetti e in generale nei futuristi che appunto questo eccesso da loro valorizzato come elemento di novità di rottura con il passato quindi soprattutto la velocità il tempo rapido la capacità di raffigurare questa dimensione è sicuramente se volete un eccesso come lo abbiamo visto dal punto di vista neurologico come se fossero delle discinesie cioè dei movimenti strani dei tic dei movimenti ripetitivi ma questo eccesso diventa un elemento creativo perché l'eccesso viene sublimato che cos'è la sublimazione? Sublimazione è un termine che si usa in chimica ma che noi usiamo in termine psicologico la sublimazione è la trasformazione di qualcosa che può essere negativo in qualcosa che diventa positivo in questo caso creativo quindi dicevo diventa una finestra della mente un'espressione di libertà una contestazione della società ma anche un generatore di cultura la luce è percepita sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista generale quindi diventa una finestra che ci consente di essere aperti sul mondo diventa ecco una espressione di purezza un altro discorso della sua concezione è che la luce corrisponde anche alla purezza e questa purezza allora serve per illuminare noi stessi ma anche la società e quindi è una generatrice di suggestioni cromatiche ma anche di sensazioni e di suggestioni spirituali allora per concludere bruschetti vive questo spirito futurista come sublimazione dell'eccesso vi ho detto trasformare qualcosa di paradossalmente negativo in qualcosa di positivo quindi eccesso della velocità e della luce e quindi una condizione esistenziale artistica di massima creatività che genera riflessi culturali ideologici e spirituali grazie 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 è stato un viaggio veloce io sono quasi stanco sento un po' affaticato è stato un viaggio eccessivo no no anche come tempo no no assolutamente adesso approfittiamo della disponibilità se volete fare delle domande perché questo è un momento in cui possiamo tirar fuori alcune curiosità non abbiate paura di chiedere anche cose che vi sembrano novie qualsiasi domanda vale ecco che di fronte all'arte c'è sempre oh magari faccio brutta figura chiedete quello che volete solo prenotatevi faccio una domanda mi curiosisce capire come per te ma qual è un motivo allora grazie per la domanda innanzitutto sì c'è da dire che la percezione del bello e quindi la visione che noi abbiamo di fronte a un'opera oltre all'attivare quelle aree cerebrali di cui vi ho detto viene comunque mediata due elementi uno è un elemento legato all'esperienza personale per cui ci sono situazioni in cui determinate visioni determinate rappresentazioni possono essere correlate e esperienze negative l'altra è come dire l'impostazione culturale cognitiva che si ha e quindi questo può giustificare nonostante appunto ci siano attivazioni che fondamentalmente possono essere oggettivamente le stesse in due soggetti che considerano uno un'opera buona uno un'opera bella l'altro un'opera brutta questo ci può chiarire fondamentalmente perché abbiamo questo tipo di sensazione di fronte appunto alla stessa opera per cui per una è bella per l'altra è brutta perché c'è anche questa mediazione voi dovete pensare che il cervello non è mai isolato nel suo contesto e quindi facciamo un esempio è come se di fronte alla percezione del bello che attiva quelle aree che vi ho detto ecco un'esperienza o un'emozione negativa blocca la trasmissione di questa condizione per cui è come se ci fosse un blocco per cui questo fatto non succede e allora uno la percepisce come negativa prego un'altra domanda vai il motivo per cui è studiato diciamo il potenziale dentro questo del cervello rispetto all'arte sì 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 no certamente questo è un settore che come dicevo è stato messo a fuoco da Zeki che si è chiesto che cos'è la creatività però è ovvio che le tecniche che Zeki ha utilizzato essendo lui un neurofisiologo e che in parte anch'io come dire ho utilizzato fino a poco tempo fa sono tecniche neurofisiologiche classiche per cui inizialmente abbiamo incominciato a studiare i pazienti con problemi neurologici patologici per esempio prima di Zeki che cosa è stato fatto si è andato ad analizzare che cosa succedeva in un pittore per esempio che aveva un suo percorso e quindi un suo modo di dipingere quando malaguratamente andava incontro per esempio a un danno vascolare cerebrale che non comprometteva la sua capacità motoria ma sicuramente modificava il suo modo di creare e qui non li ho portati ma c'è tutta una serie di studi che precedono tra l'altro anche quelli dell'attacco e dell'assonanza che fanno vedere come c'è proprio la perdita della creatività o addirittura la perdita di una parte del campo visivo che non viene più utilizzato per cui il dipinto è come se fosse a metà ecco quindi di fronte a queste condizioni ovviamente patologiche le protezioni avvocati si utilizzano per vedere se ci sono disturbi della trasmissione dal livello cerebrale al livello più inferiore oppure anche altre modalità l'elettroencefalogramma eccetera eccetera che sono tecniche che si usavano ancora prima che nascessero quelle del neuroimaging oggi l'attacco e la risonanza sono cose straordinarie quando io ho cominciato a fare il neuroscienzato e il neurochirurgo non c'erano queste cose per cui ecco Zeke si è a un certo punto orientato non a studiare le condizioni patologiche ma andare ad analizzare che cosa succede in un cervello sano tra virgolette di chi osserva o di chi crea una situazione come può essere una pittura o una scultura quindi sono due percorsi come dire diversi che nascono proprio però dall'esperienza che si era fatta nei confronti delle condizioni patologiche gli studi neurofisiologici nascono fondamentalmente da quello una domanda qua davanti poi dietro prego prego no volevo perché infatti questo è un mezzo neonorale c'è una certa tipologia di neuroni creatore creatore l'estimatore questo come si vede questa cosa e poi l'altro dice magari avrete potuto cercare il mio no davvero vento allora Zecchi si è soprattutto occupato di chi osserva e chi interpreta l'opera d'arte un settore di ricerca che sta prendendo piede adesso è proprio ad andare a vedere cosa succede nel cervello di chi crea un'opera d'arte perché anch'io vi ho detto per Brucchetti sicuramente come dire il fatto che lui nell'ambito della sua cultura futurista vedesse la velocità come un elemento importante un eccesso ma come dire non patologico ma creativo è una modalità che ci spiega perché ha creato queste opere però ce lo spiega in termini culturali non ce lo spiega in termini neurobiologici ecco in effetti come dire l'incontro tra l'artista e il neuroscienziato oggi consente di aprire queste prospettive che sono ancora da studiare per vedere non solo in chi osserva quindi lo spettatore che cosa succede nel cervello di chi osserva ma soprattutto cosa succede nel cervello di chi crea e questo è una cosa che si sta incominciando a fare ma siamo ancora le prime armi prego signora mi chiedo se sono stati fatti degli studi pubblici rettici come loro che possono avere delle difficoltà nella lettura magari del nostro ragazzo visto che parlava della decodifica praticamente dei tratti grafici di l'incontro allora studi su di l'incontro che io conosca no sono stati fatti studi su situazioni patologiche diverse per esempio in chi ha affetto l'alzheimer o altri disturbi perché allora lì come dire il guardare un'opera pittorica o artistica di altro genere consente di aprire circuiti che in condizioni normali sono chiusi per esempio l'alzheimer che è affetto l'alzheimer sapete non riesce spesso a comunicare perché ha perso tutta una dimensione del tempo della memoria eccetera bene quando questo si è incominciato soprattutto negli Stati Uniti ma adesso si sta facendo anche in Italia quando voi portate un gruppo di persone a vedere delle opere d'arte ma qualsiasi tipo di opere d'arte persone con alzheimer e poi in qualche modo gli chiedete non tanto di riprodurle ma di come dire entrare in sintonia con occhi a vedere le opere o anche altre persone tipo parenti eccetera bene attraverso un linguaggio che non è quello verbale ma che è quello grafico loro riescono a comunicare qua c'è una domanda prego signora certo il daltonismo è una no il daltonismo non è legato a un danno del neurone è legato a un danno ovviamente della percezione visiva a livello della retina il daltonico come dire vede un mondo che è il suo che è diverso dal nostro ovviamente per alcune cose ma questo non crea problemi dal punto di vista della percezione sia estetica sia cognitiva perché il suo mondo è quello poi ci sono alcuni problemi pratici ovviamente però diciamo è un po' facciamo un esempio un po' come come il sordo anche il sordo vive una sua dimensione particolare o anche il cieco è diverso ovviamente dalla prospettiva nostra che ci sentiamo e ci vediamo ma quella dimensione è una dimensione che come dire è reale per lui gli fa vedere il mondo o gli fa sentire il mondo in un certo modo perché il suo cervello si è organizzato in questo senso tant'è che voi sapete che alcuni sensi per esempio nel cieco o nel sordo rispetto a quelli comuni che noi abbiamo sono più accentuati proprio perché c'è questa specie di balance tra i cinque sensi prego 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 signora naturalmente mi auguro che vadano e proseguano semplicemente gli studi sulle condizioni di chi dipinge perché chi dipinge ha una condizione particolare di mentale di approccio mentale all'opera che lo chiude a tutte le altre è talmente quando crea qualcuno e questo lo so per certo è talmente fuori da quello che lo circonda è talmente dentro la sua creazione che sicuramente il cervello deve avere qualche modificazione neuronale perché creare un'opera è un sentire che può essere senz'altro dettato da studi da applicazioni geometriche addirittura matematiche a quello che è la sua opera però la realizzazione cioè creare e realizzarla porta senz'altro delle modifiche sì sì allora innanzitutto come dicevo questi studi stanno per essere sono ancora l'inizio non stanno per essere fatti perché poi in realtà si dipinge col cervello anche se si usa la mano eccetera ma non solo come dire ogni nostra esperienza quindi anche noi che osserviamo oltre a chi crea ovviamente in maniera differente ogni nostra esperienza crea una modificazione di volta in volta neurobiologica reale della nostra struttura cerebrale quando io ho incominciato gli studi di medicina mi sono laureato c'era l'idea che il cervello crescesse fino a una certa età avesse un certo numero di neuroni poi questi neuroni incominciavano a morire nel tempo e tutto rimaneva immobile cioè il cervello era visto come qualcosa di statico voi sapete poi che invece come dire già a partire dagli studi di David Montalcini negli anni 50 ma oggi è una cosa come dire conclamata il nostro cervello è qualcosa che si modifica nel tempo fino a quando noi moriamo cioè sempre quindi qualsiasi esperienza creativa o visiva o di altra natura che noi facciamo modifica neurobiologicamente il nostro cervello cosa vuol dire vuol dire che le connessioni tra neuroni cambiano continuamente inoltre i neuroni non è che muoiono e non scompengono più nascono nuovi neuroni quindi c'è un processo come dire di neuroplasticità che fino a qualche decennio fa non si immaginava e non si conosceva quindi sicuramente per entrare nell'ambito artistico chi osserva e chi crea in quel momento ha una modificazione neurobiologica del suo cervello ci sono altre domande? Contrariamente all'osservazione che sono prima non è che è un punto da pensare che invece l'arte sia proprio il mezzo giusto per studiare queste cose proprio perché l'arte ha sua natura esagerata eccessiva ribelle l'anartica che al contrario andassimo a studiare queste cose su immagini ordinarie dovremmo arrivare a una sensibilità tale da perdere il dato sul rumore di cose per cui non vedere più niente o un bagno sì ovviamente l'artista è sempre visto un po' come una persona strana ecco perché proprio perché come dire riesce a vedere le cose in maniera differente rispetto a vedere quindi poi a rappresentare le cose in maniera differente rispetto alla media questo vale sia in ambito pittorico che in ambito scottorio ma anche in ambito letterario un altro ambito cioè questa è la creatività cioè la percezione con occhi apparentemente diversi di una realtà che gli altri vedono invece solo fino a un certo punto e quindi sia che uno sia un artista figurativo astratto di altro genere eccetera è proprio questo che come dire poi crea emozione fascino bellezza in quello che noi osserviamo perché l'artista ci fa vedere una realtà con occhi diversi dai nostri e noi non saremo in grado probabilmente di vedere questa realtà con gli stessi occhi e quindi il valore dell'arte è proprio questo cioè di consentirci di superare come dire una dimensione ordinaria della realtà e di immergerci in una dimensione straordinaria della realtà tanto che vediamo se ci sono altre domande chiedo a uno dei curatori della mostra di darci quelle due o tre notizie importanti che ci devono dare ecco Gennaro sono i prossimi appuntamenti della mostra penso ma intanto ringrazio il professor Sironi per questa serata particolare per il tema anche perché è collegata alla mostra in corso che è proprio su Bruschetti e proprio per il buon successo che la mostra sta avendo la stessa mostra sarà prorogata fino al 4 di dicembre quindi fino a 4 di dicembre che è una domenica sarà possibile venire a visitare venire a visitare la mostra ma soprattutto proprio contestualmente alla proroga abbiamo attivato altre due visite guidate previste proprio per domenica 4 dicembre in chiusura e poi se stasera abbiamo avuto il prezioso contributo dal punto di vista neuroestetico su questa mostra domenica prossima il 27 avremo un contributo di uno storico dell'arte esperto in futurismo esperto anche di Bruschetti che è Maurizio Scudiero e quindi penso che sia per chi è da casa sia per i presenti stasera potrebbe essere una bella occasione avere come dire un riscontro con un altro punto di vista che sicuramente è diverso rispetto a un punto di vista scientifico e quindi penso che sia anche un'occasione da non perdere per non perdere questa occasione bisogna prenotarsi prenotarsi sia per Scudiero domenica 27 prenotarsi anche per le visite guidate perché capite bene che anche per ragioni di sicurezza dobbiamo essere sempre abbastanza contenuti e giusti ecco e mi fermo qui per chi vuole può approfittare prima di andare via di riguardare le opere e magari fare memo di quanto è stato approfondito e detto stasera quindi vi ringrazio e ringrazio di nuovo il professor Sironi grazie 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 davvero è una rassegna che si insegue siamo dalle api che sanno riconoscere Picasso Monet adesso questa meravigliosa serata la rassegna continua e i due percorsi divergono c'è quello della mostra e c'è quello della scienza il prossimo appuntamento venerdì prossimo avremo due fisici che studiano una cosa difficile anche da dire che sono i sistemi complessi i sistemi biologici complessi immaginate uno sciame di moscerini un branco di pesci o uno stormo di uccelli come fanno a volare insieme senza mai scontrarsi lo può scoprire la fisica noi avremo i due responsabili di un laboratorio a Roma che ha proprio questo tipo di di studio a cui ha partecipato negli anni precedenti anche Giorgio Parisi premio Nobel per la fisica e quindi un altro appuntamento non è come sembra insomma da domani mattina alle nove sperando che funzioni perché purtroppo sabato scorso abbiamo avuto un piccolo problema informatico ci si può prenotare per la penultima puntata grazie ancora al nostro ospite buonasera buonanotte a tutti e grazie ai curatori della mostra grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti